Le va di fare un'intervista? Come sta andando su Autostop? Male, ma perché non sembra che me lo stai impitando un occhio, sto coso? Vuoi farti in primo piano, no? Vabbè, sta andando male Insomma non si ferma nessuno La gente si passa da questa corsia a quella a destra, a quella a sinistra Tra parentesi contro mano, si butta contro mano per evitarci Come se noi li saltassimo sulla macchina Vabbè, comunque tipo sono le 10 metti Di quanto ci siamo allontanati da Roma? No, 50 km 10 km No, non fa di più Stiamo tipo qua Siamo, siamo Siamo all'incirca Aspetta Guarda che noi siamo tipo qua Parte e parti Vabbè, comunque siamo vicino casa Vabbè, ma se volo montone, dove sto volo montone? Ma cosa c'entra? È per capare distanza Guarda che sei una bella figa, cioè si erano fermati Guarda quella distanza